Buongiorno da Fete Online, resta delicata la situazione per la borsa, Fuzzimib in caldo dello 0,4%, siamo comunque all'interno del range già visto nella seduta di ieri, ieri i prezzi erano riusciti a chiudere al di sopra del massimo di inizio giugno, in questo momento invece ci ritroviamo al di sotto di quei livelli, quindi questo importante supporto viene messo sotto pressione ormai da due giorni, se le quotazioni dovessero terminare la seduta di sotto di area 25,950 ci sarebbe un rischio elevato di vedere proseguire la fase ribassista anche verso 24.600-700 punti, vi ricordo del gap che i prezzi si sono lasciati alle spalle nel corso del mese di luglio. La situazione è simile anche per quello che riguarda il CAC 40, un indice che si comporta graficamente sempre molto bene e verso il quale è utile guardare nei momenti di incertezza, sono due giorni che i prezzi insistono su questo importante supporto, il 50% di retracement nel rialzo dai minimi di luglio, se in chiusura di seduta dovessero scendere sotto di area 65,80 verrebbe dichiarata la resa e ci sarebbe il rischio di un'accelerazione ribassista ulteriore dopo il calo che abbiamo già visto nell'ultima seduta. Dalla tenuta di 65,80 del CAC 40 potrebbero invece scaturire dei bei rimbalzi, quindi siamo un po' in una situazione al limite e purtroppo in questa fase è difficile sbilanciarsi in un senso o nell'altro. Se andiamo a guardare il cambio Euro-Dollaro lo troviamo nettamente a di sotto di area 1,17, avevamo detto negli ultimi giorni che quello era un po' discriminante per capire se c'era spazio per un rimbalzo che sarebbe stato favorevole ad una reazione anche dei mercati azionari o se invece si amplificava il rischio di una discesa verso 1,15, cosa che sembra si stia realizzando e questo è uno scenario che invece è sfavorevole ad una ripresa degli indici, pertanto con questo Euro-Dollaro sotto 1,17 c'è il rischio che la pressione ribassista sulle borse rimanga evidente. Sono molti i temi interessanti da seguire, sostanzialmente abbiamo il comparto del lusso e quindi sia a livello internazionale che a livello domestico, ma anche quello delle bevande alcoliche che sono sotto pressioni per decisioni che sta prendendo la Cina, in particolare si parla di un potenziale patrimoniale e anche per quello che riguarda i produttori di bevande alcoliche sembra che verrà impostata una nuova regolamentazione, quindi andremo a guardare alcuni titoli che sono significativi in questo contesto, andremo a guardare Langseng perché anche il comparto tecnologico cinese è fortemente sotto pressione e questo ovviamente può avere delle ripercussioni anche a livello internazionale e poi daremo un'occhiata al petrolio che resta sostanzialmente debole, quindi come vi dicevo sono tanti i filoni in questo momento da seguire e tutti puntano verso un ridimensionamento delle quotazioni nazionarie. Iniziamo guardando due titoli del lusso francese, Kering e LVMH che negli ultimi seduti sono scesi in modo molto deciso, oggi tentano un minimo rimbalzo ma niente di particolarmente significativo, vedete come sono aumentati anche i volumi durante la fase recente di discesa, questo è il rialzo che c'è stato dai minimi di marzo dello scorso anno, un rialzo che negli ultimi mesi aveva visto una bella accelerazione, però dal massimo che è stato toccato ai prezzi il 13 agosto è partita questa fase di calo che ci ha riportato in vista di questo supporto i massimi di novembre dello scorso anno. Per adesso se non fosse per la velocità con la quale si è realizzata la discesa non ci sarebbe nulla di strano, nel senso che abbiamo visto una bella fase rialzista, una correzione del 50% circa del rialzo precedente e quindi potremmo pensare di essere ancora nell'ambito di una fase semplicemente correttiva, certo come abbiamo detto la velocità con la quale si è realizzato il ribasso, qualche dubbio che stia cambiando effettivamente la tendenza di fondo del titolo sorge e per negare questo tipo di comportamento sarà necessario un rimbalzo molto significativo, almeno di sopra di area 705-710, solo in quel caso potremmo iniziare a sperare che quelli che abbiamo visto nella seduta ieri siano i minimi di questa fase correttiva, altrimenti c'è un rischio elevato che i prezzi scendano ancora. Ovviamente data la rilevanza sia a livello di immagine sia a livello anche proprio di peso sul mercato di questi titoli, il proseguimento di una fase negativa avrebbe delle ripercussioni importanti, questo è il grafico di LVMH, vedete ieri ha violato al ribasso con un gap questa importante trend line che parte dai minimi a fine dello scorso ottobre, il canale che si era disegnato durante il rialzo ci può fornire un'idea di quello che è il target di questa fase ribassista, se prendiamo l'ampiezza del canale e la proiettiamo dal punto di rottura, vedete c'è un target fino a 5,75. Se andiamo a guardare le medie mobili, la esponenziale a 100 giorni che è significativa per quello che riguarda la condizione della tendenza di medio e lungo periodo è stata violata, tra l'altro con questo vistoso gap nella seduta di ieri, ci sono tutti gli elementi, violazione della base del canale, violazione della media per temere che quello che è partito dal massimo dell'altro giorno non sia solo un movimento correttivo ma qualcosa di più consistente. Ripercussioni ovviamente ci sono state anche su Moncler, anche Moncler ha avviato una decisa fase ribassista, oggi lo troviamo a 53,85 circa, ieri ha violato la media esponenziale a 100 giorni che passa a 55,75, attenzione perché anche questo è un segnale che potrebbe anticipare una vera e propria inversione di tendenza, quindi a meno che non si ritorni al suo pedale a 58, secondo me il suo Moncler in questa fase bisogna essere veramente molto attenti. Guardiamo per non Ricard che già ieri aveva iniziato a scendere, proprio per queste voci di una sorta di ridimensionamento del mercato cinese degli alcolici, il titolo aveva violato ieri questa trendline, la media esponenziale a 100 giorni coincideva più o meno con la linea, quindi c'è stata la violazione di un doppio supporto molto importante e questa mattina siamo a 173,10 circa, quindi siamo già scesi su questi livelli, attenzione che anche in questo caso il rischio di una vera e propria inversione del trend, per lo meno di quello visto dai minimi del settembre dello scorso anno, esiste la linea di tendenza che parte dai minimi di marzo, è decisamente più bassa dei prezzi attuali e sarà un supporto, se i prezzi si avvicineranno in quell'area a 165 circa. Anche in questo caso quindi attenzione perché la fase ribassista potrebbe non essere terminata con evidenti ripercussioni anche per quel che riguarda ad esempio Campari. Guardiamo rapidamente il future WTI, oggi si è fermata la fase negativa, avevamo però evidenziato nei giorni scorsi il completamento di questo testa a spalle ribassista, vi ricordo sempre che per quello che riguarda il future WTI, se andiamo a prendere l'ampiezza della prima fase di movimento rialzista che c'è stata dai minimi di aprile dello scorso anno ai massimi di agosto e la proiettiamo dai minimi di novembre, vedete più o meno l'ampiezza della prima fase di rialzo e l'ampiezza della seconda fase di rialzo sono coincidenti, questa è un'osservazione che rende la situazione molto pericolosa perché potrebbe voler dire se i prezzi non riusciranno a salire al di sopra del massimo di inizio luglio che data l'eguaglianza tra queste due fasi di rialzo c'è il rischio che tutta la fase crescente partita dai minimi di aprile dello scorso anno sia terminata e che adesso ci sia l'avvio di una correzione di tutto il precedente rialzo, la media mobile esponenziale a 100 giorni coincideva con la base del testa a spalle, quindi attenzione perché è elevato il rischio di ritorno almeno in area 55 dollari, questo ovviamente non può fare bene a titoli come Eni che sono correlati al prezzo del greggio, su Eni avevamo detto recentemente che solo il superamento della parte alta di questa fascia, quindi sopra 10,70 sarebbe un segnale incoraggiante per la ripresa del rialzo del titolo, se andiamo a guardare il ribasso dal massimo del maggio del 2018 e calcoliamo i ritracciamenti per tutta la fase ribassista, vedete con i prezzi siamo arrivati tra il 38,2 e il 50% con i prezzi massimi che sono stati toccati a giugno, quindi per adesso il rimbalzo che abbiamo visto dai minimi di ottobre lo scorso anno ha caratteristiche correttive, attenzione perché anche in questo caso se dovesse partire in una fase ribassista potrebbe trattarsi di un movimento esteso. Guardiamo rapidamente Lang Seng di Hong Kong in quanto rappresentante abbastanza significativo dell'andamento del comparto tecnologico cinese, ma questo potrebbe essere anche una specie di specchio di quello che potrebbe accadere al tecnologico europeo e ovviamente anche americano, la violazione di questa linea di tendenza ci porta a pensare che sia in atto una fase correttiva che ha un obiettivo posizionato più o meno in quest'area, intorno ai 23.500 punti, quindi c'è ancora un discreto margine di discesa prima di trovare un supporto, solo se dovessero tornare di sopra la linea di tendenza, sopra il 26,5, la fase negativa inizierebbe a dimostrare dei segnali di stanchezza, io temo che anche in questo caso questo rimbalzo che mi ha visto da fine luglio sia ormai esaurito e che la fase ribassista sia ripresa con un potenziale per estendere ancora. Infine volevo guardare insieme a voi il Russell 2000 che è l'indice dei titoli a piccola capitalizzazione del mercato americano, ci dà un'idea di quello che è il sentiment della situazione interna nell'ambito degli Stati Uniti, ovviamente essendo una società a piccola capitalizzazione, si tratta di società che operano prevalentemente sul mercato domestico, i prezzi sono scesi sotto la media esponenziale a 100 giorni e sotto la linea di tendenza che parte dai minimi di marzo dello scorso anno, si stanno avvicinando pericolosamente anche alla 200 giorni, se dovessero scendere al di sotto di questa che vale 2110 punti circa, temo che dovremmo considerare questa fase nell'ambito del movimento laterale che abbiamo visto negli ultimi mesi come un ampio doppio massimo e una volta completato questo ci sarebbe il rischio di scendere almeno fino in area 1800, quindi da area 2100 a 1800 sarebbe un calo non trascurabile, è evidente che l'andamento del Russell in questa direzione sarebbe gioco forza allo specchio di una situazione negativa in generale per il mercato azionario americano. Vi faccio notare che la forza relativa tra il Russell 2000 e l'S&P 500 di solito ci dà la direzione del mercato, se voi guardate nel passato tendenzialmente abbiamo delle fasi in cui la forza relativa tra Russell e l'S&P 500 scende durante le fasi di discesa dell'indice, quindi sostanzialmente possiamo dire che l'S&P 500 sovraperforma il Russell quando il Russell scende e sottoperforma il Russell quando il Russell sale e purtroppo durante la fase laterale che abbiamo visto negli ultimi mesi è partita un'evidente fase di sottoperforma del Russell sull'S&P 500 c'è il rischio che questo andamento se non sarà corretto in tempi brevi e la violazione di questa linea che ho disegnato adesso fa temere il contrario, c'è il timore che questo andamento discendente della forza relativa, quindi appunto di un Russell che sottoperforma l'S&P 500 anticipi il completamento del doppio massimo che vi ho disegnato, quindi attenzione perché dovendo fare una previsione se ci basiamo sull'andamento della forza relativa viene da pensare che la media mobile a 200 giorni verrà violata e che la figura ribassista verrà completata. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon fine settimana, vi do appuntamento a lunedì con il nostro consueto commento giornaliero.